E' visitabile fino al 17 settembre all'URP del Consiglio regionale di Via Arsenale 14 a Torino la mostra fotografica Novara Nascosta. All'inaugurazione, alla presenza della vicepresidente dell'Assemblea regionale, Daniela Ruffino, è intervenuto il curatore dell'allestimento, Angelo Ficarra. Il senso del progetto è quello di portare la nostra piccola città, quale Novara, la portata di tutti. È una città con un percorso storico e culturale molto importante ma poco conosciuto. E quindi noi abbiamo voluto portare l'attenzione del pubblico sugli angoli più nascosti della città per cercare di approfondirle la storia e soprattutto farli conoscere. Noi siamo un comitato studentesco che punta molto sulla cultura. Il nostro slogan è appunto portare la cultura dai ragazzi dal servizio dei ragazzi ai ragazzi. E quindi abbiamo iniziato con questo progetto culturale della scoperta degli angoli storici e artistici della nostra città. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.